Ciao a tutti, passiamo dall'ultima recensione Scarpa Race a oggi con una scarpa molto ammortizzata, molto protettiva, lancio recentissimo, brand lo vedete sulla mia maglietta, sto parlando della Mizuno Wave Sky 7. Eccoci con questa bellissima scarpa super ammortizzata, nuovo lancio di Mizuno, come vedete una scarpa bella, robusta, lo vedete anche dalle sue dimensioni, che ho utilizzato in diversi allenamenti, devo dirvi, lenti in cui avevo bisogno di grande protezione. Passiamo immediatamente alla scheda tecnica, che è piuttosto interessante perché qua abbiamo una scarpa che ha nuovamente un peso che supera i due e mezzo, misurata qui sotto, come vedete, pesa nel numero 8 e mezzo americano, 25 cm, Mizuno ha delle misure un po' particolari, mi raccomando, guardate sempre i centimetri, perché io in questo caso normalmente prendo un 8 che è un 39 e in Mizuno un 8 e mezzo, il 39 e 25 cm, quindi fate attenzione. Nella mia misura 263 grammi, arriva i 307 grammi nell'uomo, così dichiarato nella scheda tecnica, ovviamente io non ho pesato quella dell'uomo, ho pesato quella da donna. un drop di 8 mm, uno stack piuttosto alto, un'intersuola in Mizuno Energy, si vede qua, Energy, che è la nuova schiuma di Mizuno che in questo caso vedete applicata nella parte grigia, quindi a contatto, direttamente a contatto con il piede. è una schiuma particolarmente morbida, con delle proprietà elastiche elevate, quindi oltre a essere morbida, ha un ottimo ritorno elastico. E una Wave, come gran parte delle Mizuno, sapete probabilmente, se non ve lo spiego, che Mizuno utilizza la tecnologia Wave, che è un'onda inserita all'interno dell'intersuola, che può essere a tutta lunghezza, come in questo caso, solo sul tallone, per la metà della scarpa, a seconda del modello, con delle onde più o meno accentuate, a seconda della stabilità che vogliamo dare alla scarpa. In questo caso il Wave non è, come in altri casi, ad esempio nella Rider, una piastra in peba, in materiale plastico, ma è data dall'accoppiarsi di questi due materiali, quindi dell'enerzi e della schiuma sottostante. Il Wave è quello che dà, da una parte, l'ammortizzazione alla scarpa, insieme con i materiali utilizzati, dall'altra la stabilità d'appoggio alla scarpa stessa. In questo caso il Wave, dato dall'accoppiamento dei due materiali, è su tutta la lunghezza della scarpa, quindi abbiamo ammortizzazione e stabilità su tutta la lunghezza della scarpa. La tomaia è una tomaia in doppia mesh, chissà se si vede, chissà se si capisce, comunque una mesh doppia significa che ha due materiali messi uno sopra l'altro per dare una buona stabilità al piede, quindi abbracciarlo in modo sostenuto, non ha ovviamente cuciture, un laccio piatto per cingere molto bene il collo del piede, linguetta confortevole imbottita, conchiglia tallonare piuttosto rigida e decisamente morbida e imbottita. Anche alla vista, quindi, questa è una scarpa che vuole essere molto protettiva e molto confortevole. Io l'ho utilizzata per dei lenti, anche a ritmi che non sono i miei, cioè quando ho accompagnato a correre delle persone più lente di me, ho utilizzato questa scarpa per vagliarne anche il grado di protettività che ha quando il passo è un po' incerto e un pochino lento. La suola, eccola qua, come vedete ha un battistrada presente su tutta quanta la superficie, scarico tallonare, altro particolare tipico di Mizzuno, avere questo grande scarico tallonare, flessibilità buona, quindi medio-alta, data da questi intagli nell'avampiede e invece grande stabilità nella parte centrale della scarpa. Direi che dal punto di vista tecnico vi ho detto tutto, veniamo ai miei commenti di pancia. Allora, come vi dicevo ho usato questa scarpa nei lenti, dove avevo bisogno di protezione, anche perché è una tipologia, è un modello che va proprio in questa direzione. quindi su ritmi che vanno dai 5 in su, 5 al chilometro in su. È una scarpa molto comoda, devo dirvi che appena messa se ne sente immediatamente il comfort e altresì una scarpa che pur avendo una grande quantità di materiale sotto ed essere molto ammortizzata, permette un approccio a terra, un appoggio a terra sensibile, cioè si sente il terreno sotto i piedi. Cosa secondo me tipica di Mizuno, perché Mizuno anche nei modelli più morbidi, più ammortizzati, non limita mai la propriocettività del piede, riesce ad avere sempre un appoggio abbastanza secco, anche quando è molto morbido riesce ad avere questa idea, dare questa idea di controllo dell'appoggio, che è una cosa positiva, che piace soprattutto a chi è abituato a Mizuno, che magari non trova più in altri marchi come in passato. Quindi Mizuno è molto caratteristica come scarpa. Questo non significa che è una scarpa vecchia, anzi è una scarpa molto innovativa. Devo dirvi che mi ha piacevolmente stupito perché la sensazione quando si ritorna a casa è proprio quella di avere le gambe piuttosto riposate, malgrado ovviamente la fatica. Dal punto di vista della comodità direi che è assolutamente una scarpa comoda, benché non dobbiate aspettarvi quel tipo di morbidezza che altri marchi hanno preso come must, quella morbidezza quasi eccessiva, con l'idea di essere proprio sopra un materasso. Qui siamo su una scarpa morbida, ma non esageratamente. Molto buono il controllo della rullata, devo dire molto buona anche la sua flessibilità. È una scarpa che consiglierei sicuramente a chi non è proprio un fitness runner, quindi non è particolarmente veloce, non ricerca la velocità, ma è un runner che va più verso il benessere. Un benessere che è dato appunto dal comfort della scarpa e dalla possibilità di controllo della rullata. Anche per chi cammina può essere un'ottima soluzione per la sua superficie d'appoggio comunque abbastanza larga e la sua bella rigidità. Non travisate, rigidità non significa che non è morbida, rigidità significa che ha comunque una parte centrale del tallone che sostiene molto bene il piede. Altre cose da dire, devo dirvi che se il vostro peso non è quello di un fuscello, quindi magari un po' sopra gli standard che si pensano per un runner, la Wave Sky 7 è sicuramente una scarpa che fa per voi. Perfetta per le vacanze e per i viaggi perché può andare bene sia durante il viaggio per camminare e visitare, sia per la corsa di scarico e turistica che volete fare su qualsiasi tipo di terreno. Questo tipo di battistrada infatti direi che va molto bene anche su terreni misti, ovviamente non troppo tecnici e lo scarico, pur essendo presente, non permette a Sassolini di entrare come poteva succedere in passato in alcun modello. Ci vediamo alla prossima recensione e che dirvi, scarpa perfetta se ricercate comfort e stabilità.